che sta cucinando un canarino sicuramente hanno qualcosa di più da mangiare guarda quella pentola già oh, quello è il tuo bucato oh no, non ancora bambini dobbiamo aspettare il piccolo Tim eccomi papà sto arrivando ehi, caspita guarda quante cose buone ci sono da mangiare dobbiamo ringraziare il signor Scrooge dimmi spirito cosa che non va a quel bambino così carino tante cose purtroppo se quel che vedi rimarrà immutato vedo una sedia vuota là dove il piccolo Tim sta seduto allora questo significa che Tim sarà ma dove sono andati? spirito, dove sei? non andartene devi dirmi del piccolo Tim non andartene dove sei? chi sei? sei forse lo spirito dei natali futuri? ti prego parlami dimmi cosa succederà al piccolo Tim? oh no spirito, non voglio che questo accadda dimmi se questi avvenimenti possono cambiare non ho mai visto un funerale come questo qui sì, nessuno in lutto nessun amico a dirgli addio beh allora riposiamoci un minuto prima di riempirla tanto non andrà da nessuna parte spirito di chi è questa tomba deserta? ma è la tua Ebenezer dell'uomo più ricco di tutto il cimitero grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti